Ciao ragazzi, lo sapevate che si può far sembrare le labbra più grandi anche con i colori scuri? Questo ve lo dico perché in uno dei miei video ho fatto vedere come si fa il contouring alle labbra però ho usato dei colori chiari Tanti di voi mi hanno chiesto Monia, ma come posso far sembrare le labbra più grandi con i colori scuri? Bene, andiamo che vi faccio vedere Per rimanere nel tema natalizio userò il rosso O corrente, matita rossa, tinta o rossetto rosso E il nostro solito correttore Primo step, il più importante, è quello di idratare le labbra Come per il contouring andiamo a neutralizzare il colore naturale delle nostre labbra Dopo andiamo a prendere la nostra fantastica matita rossa E andiamo a fare il contorno Uscendo un pochino dal nostro bordo naturale Poco però, mi raccomando Adesso andiamo ad applicare la nostra tinta ai lati delle labbra Quindi, uno Come vedete ho lasciato il centro libero Escoliamo un po' Voilà Guardate come sembrano grandi Ma adesso vi faccio vedere il prima Prima Dopo Solito spero che il mio video vi possa servire Un bacio Se vi è piaciuto lasciatevi un po' di cino